Bella a tutti ragazzi,io sono alex e io sono il geasius oddio mi sono già rovinato e oggi Moriamo su,siamo su slender mode e quindi siamo pronti a morire perché Abbiamo vissuto una lunga vita e quindi vogliamo morire io no io no E quindi aspettiamo il loading,story mode ragazzi siamo sul menu come vi dicevo c'è una storia e c'è anche la page collecting ma è un bonus noi ci occuperemo della storia pene 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 devo fare il new game perché non ho il game allora lo leggiamo o non lo leggiamo no non lo leggiamo quindi se volete stoppate se volete leggere ma se non sapete l'inglese non leggetelo oppure fate finta oddio che ho detto che cazzo guarda su un altro cosa c'era i libri si sono fatti malissimo oddio sono entrati la mia vecchia torce parecchio potente una birra bevi l'amico un tè ci facciamo un tè è un otto mi pare di capire va bene proviamo a uscire ma non si vede un cazzo ma scusate la torcia equipaggiata ok equipaggiata bello ma hai fatto parecchia bene devo dire ma domandaci che cosa dobbiamo fare andarcene in culo alber slender no non lo so veramente no andare nel bosco che è la cosa migliore da fare bello che cazzo è ah non hai un albero meno male se no mi spaventate sono una breve a questa forma ragazzi ho già caga così e non c'è ancora lo slender bene ma ci stiamo muovendo no ah no perché sono contro una roccia sono deficiente vabbè che cazzo è un coniglio è un coniglio è un fattuto coniglio bianco io me ne vado non mi scelto bene dovrei andare a casa quindi torna a casa torna a quella fattuta casa dove cazzo era di qua no no giro 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 di qui sulla stradina nostra amica ce ne torniamo a casa che è questa è questa è questa è casa sì di casa ma mi hanno una perché cavolo il caccello è chiudo perché sono davvero in trappola qualcosa di davvero di veramente strano sta normale è bello che questo tizio vive in una casa in mezzo al bosco ah fantastico fantastico una nota l'ho anche salvato e io la sto prendendo bravo devo andare a ovest hai presa sì no non puoi prenderla andiamo a ovest ti dice di andare a ovest qua è ovest penso di sì la bussola gli indica ovest bravo la bussola è vero che questa torcia fa una luce del cazzo che non si vede niente sì ha detto ha detto anche ha detto anche che era potente una torcia cos'è un altro cartello cosa è scritto ah questo è più un zone ok bello bello ah percorrere shift quindi corriamo un po' no 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 si stanche cosa sta ah è questo si può dire cosa è successo ah niente ok tecnicamente dovrei poter entrare ok ok che bello qua come c'è un chiave dove la chiave qua 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 chiave amica mia chiave amore mia una nota vi lasciamo un attimo per mettere in pausa se vuoi ok è passato l'attimo sposto qui prendi anche l'altra io vorrei prendi quella chiave inglese lì prendi vorrei prenderla ma non può perché non scemo ma che ne direste se finissimo qua e che ne direste se prendessimo una palla e la data la testa allo slender prendi la palla no perché questo qua è contro la violenza bene usciamo dall'armadio come andiamo a Narnia no niente allora io penso che adesso dobbiamo andare la dovera blocca e penso che se usciamo siamo fottuti no dai spero almeno no no siamo fottuti andiamo andiamo cosa stai fermo a fare non lo so ho pure io io no io guardo qua divertirmi si c'è lo slender no non corre reale ci serve perché si consuma si l'avevo letto nelle istruzioni perché ha anche le istruzioni in questo gioco che cazzo no corri 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 dove 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 non lo trovo shifter ma l'ho trovato perché sono un genio corri oh che bello dentro non può ma che bel posto del chiam l'om andiamo nel tunnel perfetto ma cosa più perfetta di questa ma perché dovresti andare nel tunnel beh lo almeno ci ha salvato un tubo che perde un po' insanguinato ma forse è rugino probabilmente è rugino ma sta torcia qua è da da si non so si è fumata qualcosa sta torcia e qua c'è il solito garage che ci sarà la macchina dello slender si perché lo slender non è una patente forse è questo che è quello più cioè non l'abbiamo guardato qualcosa si è aperto quella porta la del cazzo si è aperto no il tuo culo si è aperto no no questo è il codice ma cosa è successo perché adesso in quella porta la ci sarà il codice perché se no finisce qui il gioco questo non è di vero non lo so porta 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 no cos'è ah si è aperto proprio ok ragazzi prendi il cacciavite no il cacciavite non lo so prendere no 2 2 1 2 2 1 facile please remember e qual è la porta quella o l'altra ci sono tante di porte apri una qua in fondo c'è una non lo so però ho paura è infinito allora ci è cose preoccupante ok se non è questo mi incazzi no 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 vuole un uomo vuole un uomo ok cazzo vai dentro vai dentro ragazzo vai dentro è gigantesco cos'è sta merda cos'è cioè come fa uno ricordarsi l'uscita ok un altro codice cos'è mangiano il tuo spirito una batteria si oh ah grazie vi lasciamo qualche secondo si bene cos'è vabbè una chiave appesa ecco no perché ha salvato il progresso stai stai preparati a correre e corri tu corre con questo si oh merda oh merda oh merda oh merda e adesso dobbiamo ragazzi aah aah cosa la porta dobbiamo andare all'uscita sicuro si se no ci ammazza si 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 corri come si è stancato oh cazzo 5 secondi di pausa mi servono 5 secondi di pausa cosa cavolo aprirà mai questa porta qua questa chiave qua questa porta si usciamo o dobbiamo tornare giù per l'altro codice ci sono anche gocce che cadono dall'altro io non voglio uscire da questo posto lo sky lo sky lo sky io lo ground io lo ground tu lo sky io lo ground no non voglio uscire non voglio uscire non uscire ok mi sento male eh si io mi sento peggio di te perchè lo sto giocando perchè non vai avanti vado avanti vado avanti dove devo andare poi andiamo a sud andiamo a sud non abbiamo ancora cercato niente un cancello un cancello apriamolo noi abbiamo una chiave no dovevo iniziare qualcosa per romperlo cazzo guarda slender man cazzo come si fa a correre con shift lo sto correndo io ok corri tu quando vuoi io vado solo porca troia oh merda cazzo mi si è spaventato la trappola ma quanti cazzo di trappola ho fatto questi ma però non c'è niente per romperlo come è rompo non lo so io direi di rientrare in quella porta la del cazzo rientrami con lo scapuzzino io ero ero ovest ma mi serve qualcosa per romperlo eh ma quanti no ti serviva la chiave inglese di prima eh infatti che aveva voluto prenderlo bastardo forse adesso ce la fa prendere se rientriamo eh dov'è a ovest dai non ci dovrebbe più essere cos'è mmm megalite non lo so non lo so non ci può entrare una prigione vabbè voglio neanche infarsi ooooh boh 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 cosa sono i nanetti nel giardino no cosa sono non lo so sono i nanetti di Matthew non voglio sapere metto dove sa chi è Matthew poi si è Matthew si 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 dio ciao che bel quadro quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate commento mettete vi piace iscrivetevi noi ci vediamo nella prossima parte di questo horror non è che no magari e moriremo di infarto si e quindi bella ragazzi che punti perché io sono undicesimo perché io sono undicesimo superate tutti vada a far capo dio mio non capisci hai niente oddio ma davvero è un bordello assurdo io sono un giant sto schiacciando tutto tutto ecco perfetto io non ho ancora preso un cubo non ho ancora toccato cubo ecco